Una riapertura delle scuole dal 9 dicembre, orari allargati con turnazioni diluendo gli orari affinché la scuola sia aperta in sicurezza. E' la strada indicata dalla ministra Zolina che trova lo stop delle regioni che invece chiedono il ritorno in classe il 7 gennaio. Si dialoga su questi temi nelle ultime ore con posizioni divergenti, ma riportare tutti gli studenti delle scuole superiori tra i banchi non è così facile come si pensa. Presidi e sindacati della scuola sono per la ripresa delle elezioni in presenza, ma solo se il sistema è in grado di garantire un potenziamento dei trasporti e del sistema di tracciamento. Per noi, prima di tutto, noi scuole è importante rientrare a scuola, ma ci devono essere le condizioni base. Noi vorremmo avere soltanto un sistema che chiarisca la situazione dei territori, perché noi parliamo anche dei territori. Quindi in questo caso noi siamo scuole superiori che vivono nella città di Salerno, il liceo artistico è ubicato a Salerno. Nel momento in cui l'armonizzazione tra le amministrazioni, enti locali e l'area dell'Astra, l'unità di crisi regionale e territoriale, individuano che ci sono le condizioni, è evidente che noi siamo felici, sia per il sistema generale, perché vuol dire che miglioriamo e che tutto va meglio della situazione passata. Ma in più saremo felici di far rientrare i ragazzi a scuola, perché i ragazzi chiedono di rientrare a scuola. E anche i genitori, almeno quelli delle superiori, spingono, perché ho sentito anche i genitori, nelle riunioni dei consigli di classe online, attenzione. Quindi questi incontri sono stati fatti online con i rappresentanti dei genitori eletti e sempre online. Questo per far capire quanto è diventato anche complicato vivere le relazioni, promuovere azioni anche, diciamo, di gestione compressiva della scuola in DAD, no? O comunque non in presenza. Lei parla di condizioni. Ci sono queste condizioni per poter ritornare a scuola il prossimo 9 dicembre? Io questo adesso non lo posso sapere. No, perché mi attendo che ci siano dei messaggi o delle valutazioni da parte degli enti che sono preposti. La scuola non è un presidio sanitario. La scuola è nelle condizioni di aprire nel momento in cui viene autorizzata a riaprire. Nelle modalità quali? Per noi andrebbe bene anche a turnazioni, oppure rientrare sicuramente dopo le vacanze, perché noi lo aspichiamo. C'è una grande confusione in giro. Innanzitutto c'è questo pensiero che la pandemia stia scomparendo. Ieri abbiamo avuto quasi 900 morti e 29.000 contagiati. Quindi siamo tutt'altro che alla conclusione di questo percorso. E poi non è un problema delle scuole. Il problema è al di fuori delle scuole. Il problema è nei trasporti, in ASL che non funzionano. Riaprire le scuole adesso o a gennaio senza sapere quanti alunni sono contagiati, quanti docenti, quanti genitori sono in quarantena. Essendo noi dirigenti scolastici assolutamente all'oscuro di tutto perché il sistema non funziona, è assolutamente inutile dirsi allora quando si apre. Decidiamo di far funzionare il sistema soprattutto. In questo momento la vedo difficile l'apertura comunque. Sicuramente i ragazzi dovranno ritornare a scuola perché la DAD funziona sì, ma l'impegno e la formazione con il face to face è tutt'altra cosa. Assolutamente, la DAD è un pagliativo e secondo me la DAD funziona veramente poco, soprattutto in quei mondi dove la dispersione scolastica è già elevata e noi sappiamo che in Campania è molto alta la dispersione scolastica. La didattica a distanza è giusto un pagliativo in attesa di rientrare, speriamo di rientrare presto.